Niente carbone per quest'anno nella calza della Befana, ma tanta solidarietà. A Bari l'Epifania ha preso il via nel modo più dolce possibile, con la consegna di doni e simboliche sacche e ripiene di cioccolata, ma anche attraverso lo scambio di parole commoventi e al tempo stesso incoraggianti del sindaco Antonio De Caro, rivolte ai ragazzi dell'Istituto Penale per Minorenni, Nicola Fornelli. È una giornata simbolica anche per questi ragazzi, lo facciamo ogni anno, è un modo attraverso la presenza del sindaco di testimoniare la presenza della comunità, perché se i ragazzi hanno sbagliato, essendo così giovani non può essere solo colpa loro, è anche colpa della comunità. E la comunità oggi viene qui a salutarli, il giorno della Befana è un giorno di festa, soprattutto per i più piccoli, è un modo per dire loro che c'è una possibilità di riscatto. L'iniziativa Porte Aperte e Auguri dallo Sport si rinnova ormai da oltre 30 anni grazie all'impegno della WISP Bari, Unione Italiana Sport per Tutti, che in passato ha coinvolto anche grandi campioni dello sport, della musica e dello spettacolo come Renzo Arbore, Checco Zalone, Antonio Cassano, Carmen Vincenti e molti altri. L'appuntamento rappresenta un'occasione di condivisione per i ragazzi in coerenza con il progetto educativo oltratrentennale che l'associazione porta avanti all'interno dell'istituto. Il nostro non è un semplice appuntamento istituzionale ma vogliamo lanciare un messaggio importante. Abbiamo voluto donare le calze della Befana in buste particolari dove accanto al nostro logo c'è proprio un messaggio sentito e che è quello che la WISP vuole portare all'interno del Fornelli, vale a dire invitare tutti alla tutela delle donne. Far bene fa sempre bene e anche ti riempi il cuore, non è una classica frase piena di retorica ma è per il nostro DNA perché sono le nostre medaglie quelle e quello che noi realizziamo qui ogni anno è una medaglia che riteniamo vada con molto merito attribuita alla WISP ma principalmente ai ragazzi che sono gli ultimi molto spesso ma che non dovrebbero essere gli ultimi di questa società. Dal carcere minorile all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, un'altra Befana, stesso clima emozionante. Anche in questo caso il primo cittadino di Bari, Antonio De Caro, con la voce rotta dalla commozione, ha partecipato all'evento organizzato dall'Associazione Impegno 95 e dal Movimento Italiano Disabili per assistere alla consegna di calze e doni ma anche di spettacoli di intrattenimento di alcuni dei supereroi più amati dai bambini. L'Associazione Impegno 95 quest'anno, anche negli altri anni, ha organizzato insieme Vigil Fuoco, Polizia Locale, Croce Rossa Italiana e altre associazioni per poter portare un po' di gioia e sorriso ai bambini. Infatti non a caso quest'anno ci sono venuti del circolo dell'Orfei e quindi hanno fatto il loro spettacolo, loro tutti contenti. È un bellissimo momento condiviso con i Vigili del Fuoco, la struttura ospedaliera, la Croce Rossa Italiana, l'associazione anche di Gaetano Balena, quindi un bellissimo momento da condividere con i bambini, veramente toccante e poi diciamo è bello stare tra i bambini, con i bambini e questo momento per lo scambio dei doni è un momento importante. Nel corso dell'evento inoltre sono stati consegnati i riconoscimenti del premio Solidarietà ad alcuni cittadini che si sono distinti per il loro impegno sociale. Io sono sempre stato, lavoro da 42 anni in Vigili del Fuoco, ho sempre fatto un soccorso tecnico urgente, però mi sono sempre dedicato a queste manifestazioni per dare un sorriso ai bambini. Infatti noi siamo presenti oggi anche al Policlinico di Bari, ci siamo divisi in modo che portiamo il sorriso a tutti i bambini che si trovano nella città di Bari.